Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati su BTC Abbiamo già trovato una partita Che va benissimo Ho appena E' la prima partita che faccio Non ho fatto manco una Perché dici che ho 1250 Che cos'è 1250? Ragazzi non so un cazzo Ok? Parto col dire che Ho scoperto qual è il problema Dell'HDPVR Che non posso risolverlo al momento Quindi mi sa che O ci sarà un ritardo nelle puntate che usciranno Oppure vi beccate le puntate Che ogni tanto si sfasano Che non è colpa mia Ci vogliono i big money? I big money non ce li ho quindi ok Sì? Non so quali sono le armi Ah le orecchie Mi sto stonando E' la prima partita che faccio E non so manco i tasti Ex online Questi già saltano Non so che cazzo devo fare Sono solamente così simile E quell'altro tasto si spara Va bene Qualcosa mi inventerò Non so manco la mappa Oh l'avevo quasi ammazzato L'avevo quasi ammazzato Mi sa che ho preso l'unica arma laser che avevo L'ho visto Oh l'ho ucciso L'ho ucciso E fuggo E fuggo L'ho ucciso e fuggo Ce l'ho dietro Ce l'ho dietro No me ne vado Non siamo più in vantaggio Perché non muore Perché sono così lento Oh l'ho ucciso Un altro Ho fatto Ah no ma non ho ucciso Cioè ragazzi scusate Non riesco ancora A dosare I salti che fanno questi io Ah ok Ok Diciamo è un doppio salto Che è però è mega galattico Questo doppio salto E Però sono Lento Tra virgolette Allora hanno l'UAV Ok Non sono portato Per l'armi laser Probabilmente Ma cosa sono questi Cos'è Cos'è sto coso Questo è uno scudo Ok Minchia Ho fatto l'E18 Con la pistola laser E sono livello 2 E' una torretta Più Faccio Si fanno i mega salti I mega salti Andiamo agli alle spalle Andiamo alle spalle E sono morti E' un tempo che mi andavo Delle spalle Eccolo Ho fatto la doppia uccisione Doppia Proviamo le altre armi Le armi pro che hanno loro Minchia Nei dati alle spalle Alle spalle Devo fuggire Devo fuggire Uso l'UAV Uso l'UAV Ok Siamo livello 3 Stanno lì sopra Abbiamo perso il comando Boom Mad shot Bitches Devo rivedicare Devo rivedicare Minchia Le big uccisioni Nella prima partita Le big uccisioni Nella prima partita Fuggo Sono quarto livello Sono quarto livello Ma se tipo Io mettessi Una torretta qui Tipo eh Tipo Mi fa qualche uccisione Se non dobbiamo La torretta Ah Devo usarla io Mi sa che l'ho messo In un posto sbagliato No un uccisione L'ho fatta Però Statti lì Perché preferisco Non morire Come in definita Ho visto qualcuno saltare No No Vaffanculo Mi mancava poco Il pigliare con l'altro là Va bene Va bene Però posso usarla La torretta remota da qua Vediamo un po' Abbiamo il controllo Ho fatto l'assist Da dove Come Quando ho fatto l'assist Minchia Minchia Ce l'ho di fronte Uno l'ho ucciso Ce n'è un altro lì Sta arrivando Stanno arrivando Uno Due Guarda hanno 25 punti Tre Minchia Facciamo le big uccisioni Ok penso si sia scaricata Torniamo con l'arma laser Al prossimo lì Rientro Proviamo il fucile di uccisione Dai abbiamo provato il mito Abbiamo provato il laser Proviamo qualche altra cosa E vedi laser Mi sa che l'ho mancato Proprio completamente Eccolo Eccolo E' un po' più difficile Sparare con il laser Parecchio più di Ah le spalle Ma tua mamma E sono primo Alla mia prima partita Siete forti Siete forti E faccio i megasalti I doppi megasalti E mi arrampico C'è qualcuno qua sotto Una bomba Salto Che cazzo di arma è Che avevo in ma Wow Ok Non ho capito bene La funzionalità Di quest'arma Ma ci provo L'ho shottato sul piede Gli vado dietro Gli vado dietro Ma come arma secondaria Che c'ho? Una pistola? Classico proprio Headshot Bitches C'è qualcuno? C'è qualcuno? Non vedo nessuno Ah eccolo Mi affanculo L'ho preso in testa Sai che l'ho preso in testa? Si l'ho preso in testa L'ho preso in testa Ragazzi questo Call of Duty mi piace Però aspettate Mi hanno inculato Mi hanno inculato Mi hanno inculato Qualc'altra cosa Cos'è questo? Penso sia il fucile a pompa Proviamo anche il fucile Proviamo Sia il fucile a pompa Penso Fa una cosa strana Però si Mi sembra sia il fucile a pompa E lancio una granata Oddio come si lanciano le granate Bombardamento alleato imminente No l'ho sbagliato Proprio Totalmente Che cosa? Tieni premuto X Porta aereo Offensivo Ce l'ho premuto X Perché non fa niente? Ah forse già stavo a che Che mio compagno Tra virgolette Ok Ho un fucile a pompa Ho un fucile a pompa Non abbiate ne paura Tu guarda L'ho sparato in petto Il fucile a pompa Il fucile a pompa Per questi giochi Non è per me Proviamo la mitaglietta 40 cruetti Sono abbastanza Però Penso di non Stare facendo una brutta partita Essendo la prima Però mi hanno massacato Con la torretta 16 18 18-9 Ho fatto il secondo Però forse ragazzi Ho fatto il secondo Controlliamo Mi sembra che ho fatto il secondo Sì Prima partita Secondo con 18-9 Minchia Scusate eh Non è poco E siamo saliti Di 5 livelli Propulsione furtiva E ah Quest'altro cosa mi sblocca Stimolanti X Poi Fucile d'assalto E infine XS1 Approvvigilamento Calma 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 Calmi Ehi L'ho sai addirittura Fucile a canna liscia Va benissimo Mi sta bene Esco dalla lobby Ok Ora me lo gioco Migliorerò Perché oddio Si Sono Ho fatto una Casco di cacciatore di testo Dei nuovi oggetti Ma Ok Penso che non lo metto Se non da Qualcosa in particolare Voglio Voglio Non lo voglio il casco Ah Ecco qua E finisco Così con la barbetta Sfatta Ah Benissimo così Ok ragazzi Ripeto Chiedo scusa se Ho qualche giorno Dovrebbero uscire le puntate Ma vi chiedo scusa Se Per un po' di tempo Finché non riesco a mettere a posto L'HDPVR In qualche punto Magari Non sarà Perfettamente Sincronizzato Io proverò a fare Del mio meglio Nella vostra produzione Per oggi Io vi lascio Spero che il video di COD Vi sia piaciuto Lo so È durato poco Però abbiamo fatto una bella partita E Fatemi sapere nei commenti Se avete qualche consiglio Cos'altro Mi raccomando Mettete mi piace Iscrivetevi al canale Commentate E Va bene così Ragazzi Noi ci vediamo alla prossima puntata Ciao